Un esposto circostanziato per denunciare che quei lavori in corso sono innanzitutto abusivi perché realizzati senza alcuna prevista autorizzazione da parte dell'amministratore del condominio. Siamo al Parco Arbostella, nella zona orientale di Salerno, in un'area molto vicina alla scuola primaria, alla chiesa del quartiere e dalle attività commerciali della zona. Secondo i condomini starebbe per nascere un centro di analisi cliniche con l'insediamento anche di macchinari al servizio di un laboratorio di medicina nucleare. A preoccupare i condomini è la realizzazione soprattutto di un totem pubblicitario, da dove è spuntato un tubo di quench collegato al sottostante macchinario per la risonanza magnetica. All'interno di questo totem pubblicitario è camuffato il tubo di quench che è estremamente pericoloso per la salute dei cittadini e noi credo che abbiamo il dovere di tutelare, ma soprattutto gli amministratori avrebbero il dovere di tutelare la salute dei cittadini. Questo è un marciapiede pubblico sul quale ogni giorno passano centinaia di pedoni, siamo nelle vicinanze di una scuola, della chiesa, di banche, di esercizi pubblici. Ebbene, su questo marciapiede è stata autorizzata l'installazione di questo tubo di quench che è come la valvola di sfogo della caffettiera, ma è soprattutto nocivo in caso succeda qualcosa per i cittadini e per la salute dei cittadini. Noi dobbiamo salvaguardarlo. Credo che non si sia fatto abbastanza. Noi abbiamo denunciato la cosa all'Asla, alla Procura della Repubblica, al Noe, a tutti gli organi istituzionalmente preposti alla tutela e alla salvaguarda della salute dei cittadini. Speriamo che si intervenga presto perché qui c'è grande allarme, si è creato un clima di tensione.